Alla 69esimo, Giamma prende la linea di fondo a cross radente per Jorge Martinez E la Catania è in vantaggio, questo il balletto celebrativo dell'attaccante uruguaiano Primo gol in campionato, vola oltre Balzaretti Jorge Martinez, Catania meritatamente in vantaggio Catania che ha grandi chance in contropiede Morimoto potrebbe servire il liberissimo Grazie a tutti